Il consigliere comunale di Vittoria, Fabio Nicosia, con un'interrogazione indirizzata al sindaco Moscato e all'assessore ai tributi La Rosa, chiede all'amministrazione di intervenire con provvedimenti che vadano incontro ai cittadini riguardo agli accertamenti IMU 2012 alla definizione agevolata dei tributi. Nell'interrogazione, Nicosia sottolinea come si sarebbe verificato un'incidenza di errori elevatissima nel contenuto degli avvisi di accertamento dell'IMU 2012. Il sindaco, si legge nell'interrogazione, ha ammesso l'errore attribuendolo a un cattivo funzionamento del software gestionale in dotazione presso l'ufficio tributi. Ad oggi però, continua il consigliere, nessuna azione è stata iniziata dall'assessore a ramo competente per rimediare l'errore. Per questo, Nicosia chiede all'amministrazione come si intenda procedere e di modificare la data di presentazione della definizione agevolata al 30 settembre 2017 e la data di inizio del primo pagamento al 31 ottobre 2017, in considerazione del fatto che il maggiore tempo a disposizione potrà essere utilizzato per migliorare le performance del software gestionale dell'ufficio tributi e di consentire ai contribuenti di interessarsi della definizione agevolata dopo aver affrontato la stagione degli adempimenti fiscali statali. I cittadini, spiega il consigliere, aspettano risposte e non possono rischiare di vedersi gravati di tasse non dovute o di non poter sfruttare la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei tributi. Nicosia chiede infine anche una conferenza dei servizi con gli ordini professionali al fine di ascoltare i suggerimenti e le proposte per migliorare il rapporto tra il cittadino contribuente e l'amministrazione comunale.